Lavori in Piazza Cavour alla rush finale, corsa contro il tempo sul Lungolago Cittadino per arrivare all'apertura del secondo tratto di passeggiata. L'inaugurazione è prevista per la giornata di mercoledì 27 marzo. Ultime due giornate di lavori per completare gli attesi interventi davanti a Piazza Cavour. Porra conclusa la posa del porfido operai a lavoro per terminare la scalinata che scende verso il lago. Per quanto riguarda gli arredi urbani di competenza comunale, fioriere, panchine, intarsi nella pavimentazione e pista ciclabile, verranno posizionati verso la zona dei giardini in maniera speculare a quanto già fatto nel tratto di passeggiata aperto tra Sant'Agostino e la nuova biglietteria della navigazione. Presenti mercoledì all'inaugurazione di Piazza Cavour e al contestuale sopra luogo i vertici regionali, il presidente Attilio Fontana è l'assessore agli enti locali Massimo Sertori, assieme agli esponenti dell'amministrazione comunale, il sindaco di Coma Alessandro Rapinese. Intanto nelle scorse ore il governatore Fontana ha invitato alla cerimonia anche gli ex sindaci di Como, Stefano Bruni, Mario Lucini e Mario Landriscina e gli ex assessori ai lavori pubblici dell'amministrazione Comasca, raccogliendo in questo modo la richiesta espressa nei giorni scorsi dal consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Gaddi. Sono invitati i sindaci di Como e gli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti dalla data della prima progettazione in considerazione della lunga e condivisa partecipazione al raggiungimento di questo importante obiettivo, ha scritto il presidente Fontana nella lettera d'invito. L'obiettivo resta quello di chiudere definitivamente il capitolo Lungolago entro l'estate. Il maxi progetto per la costruzione del piccolo mosellariana legge infatti sulla città da oltre 30 anni e dal 2008 il Lungolago cittadino è ostaggio dell'infinito cantiere. Ora però dopo 16 anni finalmente mercoledì riaprirà a cittadini e turisti Piazza Cavour.